E cos'è questa storia? Perché hai mandato quegli orchetti attraverso la breccia? I maghi dell'ordine erano vecchi e deboli, incapaci di governare con polso fermo. Gli orchetti erano uno strumento per spazzar via la feccia e la corruzione. Ah, una dimostrazione di potere, eh? Capito. Proprio qui! Questa è la posizione! Ah, il gioco si fa duro! Grazie a tutti! Battaglia col cibo! Battaglia col cibo! Hai il diritto di rimanere in silenzio. È morto. E' come fare la salsa d'orchetto. Questo gli farà il solletico ai piedi. Plastico! Il diritto di rimanere in silenzio. Il diritto di rimanere in silenzio. È l'ultima cosa che vedrai. È l'ultima cosa che vedrai. Il diritto di rimanere in silenzio. Il diritto di rimanere in silenzio. Il diritto di rimanere in silenzio. Questa è la fase di rimanere in silenzio. Cosa? Sì! Sì! Questo sarà divertente! E iniziamo! Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.